Certe notti Salve a tutti amici telespettatori, ci saremo qui in via Francesco Giuseppe Nuvolo 12, in questo bellissimo pub, Orish Pub, dove ci sono tantissime offerte, menu bambini, panno due ingredienti, patatine, bibita, crepes a soli 6 euro, mentre menu adulti, panno a scelta, patatine, bibita o birra più dolce a soli 10 euro. Quindi ragazzi, bambini, accorrete qui per organizzare le vostre magnifiche feste, oppure per passare una serata piacevole all'insegna del divertimento, qui da Orish Pub. Per maggiori informazioni andate sul sito www.napolivomero.org, cliccate l'icona Orish Pub, entrate e troverete tutte le vostre informazioni. Sempre qui all'Orish Pub andiamo qui in questo tavolo di queste bellissime ragazze, come vi chiamate ragazze? Anna Chiara Susi Ragazzi, perché avete scelto Orish Pub? Perché è più vicino da casa e poi offre un sacco di cose, buone soprattutto. Per te? Invece a me me l'ha consigliato un mio amico e aveva detto che si è trovato molto bene in questo pub, è come lei, ci offre tante cose. Per cosa avete ordinato? Noi il menù da 6, che ci offre crepe, un pallino a scelta, una bibita e le patatine. Uguale, se senti che cosa? Allora, buon appetito e venite tutti da Orish Pub, che c'è convenienza e qualità. Verremo sicuramente. Grazie. Sempre qui all'Orish Pub, un bellissimo tavolo di ragazzi, come state ragazze, dove va la serata? Grazie, bene. Come ti chiami? Valentina Valentina, perché hai scelto Orish Pub? Perché me l'hanno consigliato dei miei amici e hanno detto che è un buon pub. Avete già ordinato ragazzi, come ti chiami? Elena Sì, il menù da 6 euro. Ragazzi, cosa ne pensate? Di questo pub? Sì, che si sta molto bene, c'è un bello televisore grande, dove si possono vedere tutte le partite, quindi... Bell'ambiente. Qui a Orish Pub siamo in compagnia della bellissima signora, come si chiama signora? Manuela Manuela, anche tu hai scelto l'Orish Pub? Sì Come ti trovi qui a Orish Pub? Benissimo Si mangia bene? Molto bene, le ragazze sono veramente molto brave. Cosa ha mangiato stasera? Panino Con cotoletta Quindi lo consigliate l'Orish Pub? Certamente, soprattutto per le feste dei ragazzini, è l'ideale. Benissimo sera, grazie mille, buona serata. Tempere qui all'Orish Pub, un bel tavolo, due ragazzi, come vi chiamate? Giuseppe Andrea Come vi avete scelto l'Orish Pub? Ormai veniamo qua da anni e anni e anni, ottima cucina, ottima cucina, ottimo ambiente, servizio impeccabile. Quindi? Dieci all'Ode. Quindi tutti devono unire all'Orish Pub? Sì sì sì, consigliatissimo al 101%. Vi aspettiamo Ciao Cosa avete ordinato ragazzi? Due Big Orish Cosa si tratta? Un panino con 500 grammi di carne, patatine, formaggio e cipolle. Buonissimo qui Buon appetito allora Grazie Ciao ragazzi Ciao Siamo con una collaboratrice dell'Orish Pub, come ti chiami? Valeria Valeria, vuoi aggiungere qualche altra cosa in questo pub? Il venerdì qui si svolge il karaoke e vi aspetto tutti Bellissimo, cantiamo insieme, tutti a sguarciacola Tutti quanti insieme E vai, qui all'Orish Pub Grazie Siamo incontriando la figlia del proprietario dell'Orish Pub, come ti chiami? Barbara Barbara, mi parla un po' della tua attività, di questa attività cosa svolgete qui? Facciamo menù bambini per le feste la 6 euro, con panino, patatine, bibite e crepe Poi facciamo anche qualche volta menù adulti, che comprende il panino, patatine, bibite e bibite piccole con dolce E poi lavoriamo normale, trasmettiamo la partita Quindi è un piacere venire all'Orish Pub perché si mangia bene e ci si diverte Assolutamente sì Tutti all'Orish Pub, vi aspettiamo Grazie